La Polizia di Stato della Questura di Cosenza ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal dottor Labunia dell'ufficio GIP presso il Tribunale di Castrovilleri nei confronti del somalo Xan Cusman classe 1988 per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. La misura cautelare in carcere eseguita dagli uomini della squadra mobile della Questura di Cosenza è la conseguenza delle serrate indagini che la notte del 30 giugno scorso portarono al fermo dello Xa San ad opera della stessa squadra mobile in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto di Corigliano. Con questa esecuzione quindi eseguita dalla Questura di Cosenza si tratta del terzo provvedimento nei confronti del terzo scafista dello sbarco di migranti avvenuto qualche giorno fa proprio nel porto di Corigliano Calabro.